musica 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 ecco qua, ecco qua, dicevamo che stiamo battezzando la classe R3 Luca Piazza e Fabio Treccani arrivano con i colori della GMA Competition la struttura ovica Luca, buongiorno buongiorno come mai è questa presenza sull'asfalto più celebre del mondo? perché Monza è sempre la più bella gara in circuito fatta nel 2007 quando era il rally Monza show e quest'anno per finire la stagione ho pensato di finirla in bellezza e sono vecchi grazie bene, buon divertimento e grazie mille Luca Piazza, Fabio Treccani GMA grazie mille grazie mille grazie mille Grazie. 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 Grazie.